Per alimentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, alle amministrazioni di ogni livello si impone il massimo impegno per offrire servizi più rispondenti ai bisogni dei cittadini e alle imprese. Maggiori sono i disagi, le fragilità e le diseguaglianze. Più incisiva ed esclusiva deve essere la capacità di risposta dell'apparato pubblico. La lotta all'inefficienza e alla disfunzione va portata avanti con determinazioni attraverso interventi di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica che consentano di razionalizzare e semplificare l'azione pubblica, di facilitare l'accesso ai miei servizi misurando nella qualità effettiva e di valorizzare le professionalità e le competenze. A voi prefetti, per il peculiare ruolo istituzionale spetta a rappresentare sul territorio un punto di equilibrio tra istanze e interessi diversi, con una situazione di raccordo e di mediazione tra istituzioni e forze sociali, ancora più essenziali in situazioni di particolare complessità, come la gestione dell'accoglienza ai migranti. Vi si chiede di sollecitare un sforzo per superare le visioni di parte, per ridurre conflittualità e divari territoriali, per tenere insieme le ragioni della sicurezza e della solidarietà, dell'autonomia e dell'utilità nazionale. Tenace e inflessibile deve essere l'azione con comportamenti illeciti e l'infiltrazione delinquenziale. Nelle modi scipio, se ci fa la testa, dove la vittoria è regolata la chioma, che schiava di Roma, in Dio la creò. Trovo, 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 po, 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 po. Tratelli d'Italia, d'Italia sedesta, dove nel modi scipio si è cinca la testa, dove la vittoria è regolata la chioma, che schiava di Roma, in Dio la creò. Si non ci accorre, si apronte a la morte, si apronte a la morte l'Italia che amò. Si non ci accorre, si apronte a la morte, si apronte a la morte l'Italia che amò. Si! Grazie mille! 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 Grazie mille!